fine del percorzino ripartiamo ok questa è la palestra e ora questo è il percorzino per andare a scuola so perché mi sta smattando il telefono quindi ha fatto 2000 video non so e andiamo praticamente fin laggiù è quasi tutta dritto ci vediamo fra un po ritentiamo filmo la gente che gioca ping pong giustamente la mattina alle 7 la gente gioca ping pong qui c'è il campo da calcio uno dei vari che ci sono e ciao l'ufficio ci si trova all'entrata